carissimi pace buona giornata 17 gennaio 7 del mattino gloria a dio siamo di nuovo insieme il signore ci ha dato un nuovo giorno e lo ringraziamo con tutto il nostro cuore leggiamo nel libro di michea capitolo 7 il verso 7 quanto a me scrive il profeta volgerò lo sguardo verso il signore spererò nel dio della mia salvezza il mio dio mi ascolterà bellissimo questo verso che è qualcosa che ci suggerisce alcuni passi fondamentali riguardanti la vita cristiana va ricordato che la condizione in cui si trovava il profeta michea nel periodo in cui scriveva queste parole non sembra essere molto diverse da quelle in cui ci troviamo oggi non è raro infatti sentire che gli uomini devoti sembrano scomparsi e che le persone sembrano più interessate alle cose terrene temporanee che alle cose spirituali ed eterne in una situazione come questa cosa possiamo fare se non seguire il consiglio del profeta michea quanto a me dice il profeta è un po come se lui volesse dire non mi interessa di quello che fanno gli altri non mi interessa di ciò che accade intorno a me io voglio fare una scelta personale per la mia vita quanto a me scegliete oggi disse giosuè il condottiero alla fine del suo ministerio terreno chi volete seguire lo disse a tutto il popolo israele ma quanto a me noi serviremo o insieme alla mia casa il signore è una scelta personale e dio ci aiuti a fare questa scelta la scelta di guardare a dio perché dice michea quanto a me volgerò lo sguardo verso il signore non terrò lo sguardo cioè sulle cose terrene non mi concentrerò in modo esclusivo su di esse ma mi concentrerò e guarderò innanzitutto e prima di tutto alle cose spirituali se siamo stati risuscitati con cristo scriverà paolo ai colossesi lo leggiamo nel capitolo 3 cercate le cose di lassù dove cristo è sito alla destra di dio aspirate alle cose di lassù non a quelle che sono sulla terra e dio ci dia grazia di volgere lo sguardo verso il signore di fissare lo sguardo su cristo colui che crea e rende perfetta la fede quanto a me scrive il profeta michea io volgerò lo sguardo verso il signore spererò nel dio della mia salvezza e quindi il nostro la nostra speranza deve rimanere fondata su colui che ci ha salvato e che ci ha redenti in altre parole non possiamo pensare che il nostro aiuto venga dal mondo che ci circonda il salmista lo diceva bene in un modo meraviglioso nel salmo 121 io alzo gli occhi al monti dove mi verrà l'aiuto il mio aiuto viene dal signore che ha fatto il cielo e la terra speriamo nel signore confidiamo nel signore abbiamo fiducia nelle promesse che troviamo nella sua santa e benedetta parola perché colui che fa le promesse il signore le manterrà non solo perché è fedele e innanzitutto per questo ma perché ha anche il potere di mantenere quelle promesse delle volte noi perdiamo la fiducia perché abbiamo fatto brutte esperienze su questa terra rivolgendo le nostre speranze verso gli uomini e abbiamo potuto vedere che delle persone anche ben intenzionate non hanno mantenuto le promesse fatte semplicemente perché si sono trovate nelle condizioni di non poterlo fare ma si è benedetto il signore che le risorse di dio non si assauriscono mai e che il suo braccio potente ancora è steso in favore di quelli che sperano in lui ed egli è capace di fare quello che ha promesso sì volgiamo lo sguardo verso il signore sì speriamo nel signore sia la nostra fiducia riposta in lui il nel signore che ci ha salvati e questo deve essere un ulteriore motivo di speranza in dio perché come dirà l'apostolo paolo più avanti nello scrivere la sua epistola ai romani leggo al verso 32 del capitolo 8 colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi tutti non ci donerà forse tutte le cose con lui in altre parole se egli è stato pronto a dare il suo onigenito figlio affinché noi potessimo essere salvati e redenti da questo mondo non sarà pronto a concederci quello di cui abbiamo di bisogno secondo la sua infinita sapienza ed è questa la speranza che noi abbiamo non solo che egli interverrà ma che interverrà per il nostro bene e che se qualche volta non interviene solo perché non è il momento opportuno o perché forse quello che stiamo chiedendo non è buono per la nostra vita quanto a me io volgerò lo sguardo verso il signore spererò nel dio della mia salvezza e ho questa certezza che dio mi ascolterà sì perché quando noi preghiamo dio con tutto il nostro cuore nel nome di gesù egli ci ascolta ed è importante questo perché noi non preghiamo un dio come gli dei di questo mondo che hanno orecchie non possono dire e altre cose ma preghiamo in un dio che ascolta ascolta e delle volte ascolta anche i nostri silenzi le lacrime versate nel buio quando nessuno ci vede lui le ascolta nelle nostre distrette egli è con noi nella distretto e come fece in passato col suo popolo e con tutti coloro che speravano e confidavano in lui egli poi interviene per liberare l'apostolo paolo scrisse ai corinzi seconda epistola capitolo 1 dal verso 8 non vogliamo che ignorate l'afflizione che ci colse in asia siamo stati molti provati oltre le nostre forze tanto da farci disperare perfino della vita anzi aggiunge l'apostolo avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi ma in dio che risuscita i morti ma egli ci ha liberati e ci libererà ancora ed è bello questo grido di trionfo di paolo questa certezza egli ascolta egli interviene egli libera e continuerà a farlo fino al giorno in cui dovremo comparire nella sua presenza e lì non avremo più bisogno di liberazione lì contempleremo la gloria di dio vedremo il suo figlio faccia a faccia e godremo con lui per tutta l'eternità perciò diventi questo il nostro motto diventi questo il fondamento del nostro modo di esistere quanto a me io volgerò lo sguardo verso il signore spererò nel dio della mia salvezza il mio dio mi ascolterà sia così oggi e tutti i giorni della nostra vita la grazia la pace l'amore e la presenza di dio ci accompagna ancora oggi dio vi benedica grazie a tutti grazie a tutti